Nell'impostazione del gioco d'attacco risponde Tarzana, grande azione solitaria, bellissima peraltro, in teoria saremmo a meno quattro, però intanto è il fenomenico che risponde un bellissimo scambio per Mario Ruides, Nacevic, in posta su Saavedra, grande, grande Saavedra, grande realizzazione, il gol, prova questo filo da lontano, Juan Galbassa, è proprio sul finale, quando venuti l'aspetto, 7 difende la pallina, e poi c'è un fallo da parte del numero 88, Di Rinaldi, che viene messo fuori contro Corona, paghi, tiro, fa uno, ancora paghi, alza e schiaccia, il passaggio sul paghi, che poi subisce anche fallo, può partire, Maut, tiro, nulla di fatto, nulla di fatto, e poi il numero 5, che grossetto, Nacevic, il numero 4, bianco, grande del pubblico, Saavedra, va nel portiere, sulla rispita, Saavedra, ancora il portiere, Nacevic, questo conto il brev, che grossetto, la squadra rossonera, e poi c'è il gol del numero 6, Nacevic, si viene messo giù, e c'è un blu, c'era una sera, si può partire, Camella, tiro, fare il portiere, rimattuta, niente da fare, l'estremo di peggiore, grossetto nello respinge, finisce la partita. Grazie a tutti.